Una caporale La caporale trasportava su un furgone con targa bulgara otto braccianti che avevano lavorato per 4 ore l'ora nelle campagne del Ragusano e li stava accompagnando verso Catania. Fermato dalla polstrada è stato trovato anche Ubeaco alla guida. I particolari dell'operazione raccontato dalla dirigente Gaetano Di Mauro. Sequestrati tra Ragusa e Agrigento 22 diplomi di maturità falsi. La regia di questo vasto traffico era ispica e si avvaleva della complicità di presidi, insegnanti e impiegati di segreteria. L'inchiesta è partita da Agrigento ma la Guardia di Finanza ha scoperto nel Ragusano la base dell'organizzazione. Anche per il commissario della SRR Società Regolamentazione e Rifiuti Nicola Russo a Scicli è evidente una disorganizzazione del servizio di raccolta e smaltimento. Un sistema totalmente illegale e fuori controllo. Perfino amianto nella spazzatura cadastata in una città sempre più sporca e sulle quantità non tornano i conti. I tanti misteri del servizio scuola Bus a Ragusa. Una strana avvertenza contro il lavoro stabile condotta da sei lavoratori assistiti dalla CGL. Una tutela legale contro la propria stessa stabilizzazione. L'ombra di interessi estrani intorno e sullo sfondo una parentopoli negli uffici comunali che governano il servizio. Riscossione Sicilia. L'agenzia fiscale partecipata dalla regione rinuncia al pignoramento contro Gaetano Armao che in quanto a sestra l'economia ne ha il pieno controllo. Un interesse privato che prevale su quello pubblico in modo così eclatante? Chiesto un accesso agli atti è interrogato anche i musumeici di cui Armao è vice. Un saluto ai nostri telespettatori e bentrovati con l'informazione della prima tv. Dunque l'avete sentito dai titoli apriamo il telegiornale con la cronaca. Parliamo di caporalato in agricoltura. Un caporale appunto trasportava su un furgone con targa bulgara otto braccianti che avevano lavorato per 4 euro l'ora nelle campagne di El Ragusano e li stava portando verso Catania. Intercettato dalla polizia stradale sulla statale 514 è stato trovato anche ubriaco alla guida. Abbiamo sentito il dirigente della polizia stradale di Mauro che ci ha raccontato i dettagli dell'operazione. Sentiamo. Una piega che affligge anche il territorio ibleo. Il caporalato in agricoltura è un problema ben radicato nella provincia visto anche la presenza numerosa di serre e terreni coltivati. Un caporale romeno ubriaco ieri che trasportava su un furgone otto operai africani clandestini da Ragusa a Catania è stato intercettato dalla polizia stradale. Un altro romeno a bordo del mezzo aveva con sé un pugnale da sub ed è stato denunciato per portodarmi. I migranti avevano da poco finito di lavorare per 4 euro a cassetta di olive nelle campagne ragusane. Gli investigatori hanno ascoltato i braccianti agricoli e grazie alle loro testimonianze il caporale è stato scoperto. Infliggeva condizioni di lavoro disumane, 12 ore al giorno per una paga mericonosciuta e senza alcuna sicurezza sui luoghi di lavoro. Il romeno aveva anche un tasto alcolemico sei volte superiore a quello consentito ed è accusato anche di aver messo a rischio la vita degli operai e di tutti gli altri conducenti di veicoli. Di pomeriggio intorno alle 16.30 sulla Ragusa a Catania, zona di Chiara, i miei hanno visto questo furgone perché Parga Bulgara tra l'altro aveva, sembrava particolarmente carico. L'hanno fermato e c'erano due rumeni, uno alla guida e l'altro accanto e questi operai messi dietro di colore. L'hanno presciuto al controllo, al di là del conducente che già dava segnali di aver bevuto e che poi risulterà positivo con un tasto alcolemico 2,95. Poi tra l'altro hanno notato che il passeggero si vedeva quasi il manico di un coltello, quindi insomma perquisizione, controllo. Dopodiché gli operai hanno capito che erano stati a lavorare e che quindi non sapevano bene indicare dove. A quel punto sono stati portati in questura e insieme al personale della squadra mobile che è specializzato in questo tipo di attività sono stati sentiti dalla squadra mobile e da là è emerso che erano in nero, che non, insomma, sottopagati e tutto quant'altro. Successivamente il furgone è stato sequestrato e i migranti sono stati affidati all'ufficio immigrazione della questura di Ragusa per l'espulsione. 22 diplomi di maturità sequestrati tra Ragusa e Agrigento perché falsi, la regia di un istituto di Ispica, presidi e insegnanti coinvolti. L'operazione è stata condotta dalle fiamme gialle di Ragusa su disposizione della procura di Agrigento. Sentiamo. 22 diplomi di scuola superiore sequestrati, la regia di un centro di istruzione, Quell'oggetto di indagine con base operativa a Ispica è la connivenza di pubblici ufficiali, quali presidi, insegnanti ed incaricati di pubblico servizio, appartenenti a quattro distinti istituti paritari. È il risultato di un'indagine condotta in collaborazione dalla procura di Ragusa e Agrigento, che rischia di allargarsi a macchia d'olio e che ha scoperto il rilascio di diplomi truccati nelle province di Ragusa e Agrigento. Le risultanze dell'indagine saranno spiegate nei dettagli domani, in una conferenza stampa indetta dal procuratore aggrigentino Luigi Patronaggio, ma quel che già si sa è che esistono gravi indizi di colpevolezza acquisiti agli atti dell'indagine che hanno portato al sequestro preventivo d'urgenza di 22 diplomi di scuola media superiore, irregolarmente conseguiti nell'anno scolastico 2014-2015 da altre tanti studenti. L'operazione, denominata Diplomat, è stata eseguita dal Nuglio di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Ragusa, espletata nell'ambito di un procedimento penale inizialmente incardinato presso la procura di Ragusa e successivamente trasferito per competenza territoriale alla procura di Agrigento. Dalle risultanze delle indagini è stato possibile individuare sul territorio regionale la presenza di un sodalizio criminale, dedito alla commissione di più delitti contro la pubblica amministrazione e la fede pubblica, con particolare riferimento all'indebito rilascio di diplomi di maturità. Tutto è partito dal controllo di un centro di istruzione di ispica che aveva rapporti con scuole paritarie ubicate in provincia di Agrigento, Licata e Canicattì in particolare e Catania. Nel corso del servizio sono stati sottoposti a sequestro probatorio ingenti somme di denaro. Cambiamo argomento. Anche per il commissario della SRR Nicola Russo, a Scicli c'è un'evidente disorganizzazione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. Per quanto riguarda l'indifferenziata, registrate ancora delle anomalie. Ieri in discarica sono arrivate soltanto 14 tonnellate di rifiuti. Vediamo. Le quantità autorizzate al comune di Sicili per l'accesso alla discarica di Cava dei Modicani esulano da un'idonea organizzazione del servizio di raccolta a livello comunale. Come visibile nel reportage, vi sono rifiuti quali ingombranti, apparecchiature elettriche ed elettroniche, scarti vegetali, eccetera, che comunque non possono essere smaltiti in discarica, ma presso impianti di recupero autorizzati al ricevimento di tali rifiuti, permettendo così di essere questi esclusi dal conteggio dei quantitativi indifferenziati. Inoltre, i rifiuti mostrati nel video comprometterebbero il corretto funzionamento dell'impianto. Pertanto non si tratta di difficoltà, dovute al raggiungimento dei quantitativi massimi, ma di materiali che devono avere necessariamente un'altra destinazione di impianto. Questo il commento del commissario della SRR di Ragusa, Nicola Russo, al nostro reportage video sulle discariche abusive di scicli e sulla parte di indifferenziata che rimane a terra o nei cassonetti. Russo sottolinea quindi come a scicli riguardo i rifiuti il problema sia molto più complesso e non riguarda solo la parte di indifferenziata conferita o non conferita a cava dei modicani. Nelle micro, che ormai sono diventate macro o discariche abusive presenti nel territorio, vi sono rifiuti di ogni genere spesso pericolosi, come l'amianto, che andrebbero recuperati e smaltiti in appositi centri, cosa che non viene fatta. Questo quindi è un altro problema che si aggiunge a quello della differenziata ferma d'agosto all'8% e alle oscillazioni di conferimento di indifferenziato in discarica che suscitano non poche perplessità. Abbiamo già parlato della riduzione drastica di conferimento di indifferenziato tra agosto e settembre quando c'è il comune, si è dovuto adattare al limite di 31 tonnellate giornaliere rispetto alle 50 conferite il mese precedente. È evidente però che qualcosa non quadra quando si apprende che ieri in discarica da Scicli sono arrivate solo 14 tonnellate. Non se ne conoscono i motivi, ma è palese che continua ad esserci una qualche anomalia e che i conti non tornano. A Vittoria la Polizia Municipale, su indicazione della triade prefettizia che guida il comune, ha elevato 150 sanzioni per il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti per le strade. I commissari hanno scelto la linea dura anche contro questo fenomeno che in passato ha caratterizzato il comprensorio Parino. Sentiamo. Su indicazione della Commissione straordinaria, la Polizia Municipale di Vittoria ha intensificato nell'ultima settimana i servizi di contrasto dell'abbandono dei rifiuti sulle strade urbane ed extraurbane, a garanzia dell'igiene collettiva e a tutela del decoro delle aree pubbliche. L'attività di vigilanza e controllo del territorio è stata potenziata attraverso servizi espletati in diverse fasce orarie, anche notturne, sia nelle vie del centro abitato che nelle aree periferiche, maggiormente interessate dal fenomeno. Alcerito, Cicchito e Via del Vino è incontrata Salmè, la strada provinciale 68, Vittoria Pedalino, Via Uruguay, Colombia, Peru, Fiume di Contrada, Bosco Rotondo, Coste Speri è incontrata Alcerito, Villaggio Madonna della Salute e Contrada Resinè. In una sola settimana il personale della Polizia Municipale, guidato dal comandante Costa, ha elevato 150 sanzioni. Il potenziamento dei controlli, dichiara il vice prefetto Dionisi, non rimarrà un'iniziativa sporadica. Abbiamo deciso di intraprendere una forte duraturazione di contrasto, con il preciso intento di migliorare sempre di più l'ambiente e la vivibilità del territorio vittoriese e garantire un servizio sempre più efficiente a quei cittadini che tanto responsabilmente osservano le regole della raccolta dei rifiuti e che hanno giustamente a cuore le loro città. E andremo avanti su quella linea. Quello compiuto dalla Polizia Municipale negli ultimi giorni non va considerato un blitz, una tantum. I controlli proseguiranno e la tolleranza nei confronti di chi sporca e deturpa il territorio continuerà ad essere zero. E ora spostiamoci a Ragusa per tentare di scoprire nell'ambito del servizio comunale Scuolabus i misteri che accompagnano una singolare vertenza. Sei lavoratori assistiti dalla CGL rifiutano la stabilizzazione e si battono per avere un contratto a termine. Ma la loro posizione condiziona il servizio perché i sei pretendono di esserci ma solo a breve termine. E sullo sfondo la trama e la regia di interessi estraneo è un sottobosco di interessi che ruota intorno a una parentopoli da tempo stabilmente insediata negli uffici del comune di Ragusa. Sentiamo. Continua Ragusa sul servizio comunale Scuolabus la singolare vertenza tra l'impresa da una parte e i sei lavoratori dall'altra in disaccordo sul tipo di rapporto di lavoro. A tempo determinato o indeterminato? In effetti succede regolarmente, in ogni realtà produttiva, che il punto di vista ed anche gli interessi propri e diretti di lavoratori e datori di lavoro su questo punto tempo determinato o indeterminato siano contrapposti. Ma qui le cose vanno al contrario. I sei lavoratori vogliono a tutti i costi il rapporto di lavoro a tempo determinato con scadenza peraltro a breve, mentre l'impresa è decisa a stabilizzarli aprendo, dopo gli impieghi precedenti, un rapporto a tempo indeterminato. Se quelli dei sei lavoratori fossero legittimi interessi individuali, per esempio un diverso futuro impegno di lavoro, il braccio di ferro sarebbe di facile soluzione. Ma non è così. I sei lavoratori avevano prima il problema di non essere stati richiamati in servizio alla ripresa del nuovo anno scolastico. Quindi, vertenza, assistiti dalla GISL. Successo pieno, immediato ritorno in servizio e addirittura stabilizzazione. Ma qui il meccanismo si blocca. I sei lavoratori riscoprono la bellezza del breve contratto a termine. Via quindi la GISL, meglio la CGL che li assiste per chiedere chiarimenti all'impresa che li vuole stabilizzare, mentre la tutela legale più efficace si rivela quella dell'impresa. Ma non l'impresa che li vuole stabilizzare e che gestisce il servizio di scuola bus comunali, ma un'altra impresa che l'ha gestito in passato e che quindi ha esperienza di rapporti proprio su questo terreno con gli uffici di Palazzo dell'Aquila, dove sono in molti dipendenti, impiegati, funzionari o dirigenti, familiari e parenti degli operatori che vanno assunti perché il servizio possa essere espletato. Assunti come piace a loro, anche per compiacere un'impresa, che però non è quella che sta espletando il servizio. In questo contesto sfugge il ruolo della CGL. Possibile che creda nelle ragioni di questa avvertenza spericolata contro la stabilizzazione dei lavoratori? E un'ultima ora è appena arrivata in redazione, ve la leggo. Danneggiata la lapide in memoria di Loris Festival. A denunciarlo ai carabinieri della stazione di Santa Croce Camerina nel Franco Panarello, il nonno materno del piccolo trovato morto il 29 novembre del 2014 nel canalone di Contrado Vecchio Mulino. Quando il padre di Veronica si è recato dove è stato rinvenuto il corpo del nipote, privo di vita, si è accorto che la stele commemorativa è stata danneggiata. L'uomo non andava a pregare nel canalone da poco più di una settimana. Quindi, in maniera presumibile, il danneggiamento è avvenuto tra il 22 settembre e la giornata di ieri. Sull'episodio indagano i carabinieri della locale stazione, coordinati dal comando provinciale dell'arma di Ragusa. Torniamo adesso al servizio e parliamo dei nuovi sviluppi dell'inchiesta sul cosiddetto sistema montante. L'ex leader di Confindustria in carcere per associazione per delinquere, finalizzata a una serie lunghissima di reati. Negli uffici dell'assessorato regionale delle attività produttive e in quelli dell'Union Camera trovate carte scottanti sulla rete di complicità e sul filo che legava gli affari di montante al governo Crocetta. Sentiamo. Appena fissata l'udienza preliminare per il rinviaggiudizio dei 24 del sistema montante, accusati di spionaggio, dossieraggio, accessi abusivi ai sistemi informatici, truffa, favoreggiamento, violenza e altro. Un blitz a Palermo potrebbe imprimere una svolta all'altro filone d'inchiesta, quello dell'associazione per delinquere, finalizzata alla corruzione. Il blitz è avvenuto negli uffici dell'assessorato regionale attività produttive e nella sede di Union Camere, palazzi occupati per anni dalla rete di interessi di montante, l'ex leader di Confindustria ed ex icona antimafia, oggi accusato di associazione mafiosa e in carcere per due associazioni per delinquere, di cui sarebbe a capo. Sequestrati i documenti riguardanti la gestione dell'IRSAP, l'istituto che ha rilevato i consorsi per le aree industriali, il giro d'affari che viserebbe intorno a tutte le carte delle spese pazze sulla partecipazione della Sicilia all'Expo. Spese che il governo Crocetta appaltò di fatto a Montante attraverso Union Camere e che il dirigente di Confindustria potè destinare a piacimento alle imprese da lui prescelte. Ci vorranno mesi perché anche questo filone di chiesta possa prodare ad un punto conclusivo. Qui sul banco degli imputati ci saranno con Montante l'ex presidente della regione Crocetta, che sarebbe stato finanziato illecitamente con un milione di euro, e i suoi assessori alle attività produttive, Linda Vancheri e Mariela Lobello, che di fatto in questa carica erano scelti proprio da Montante affinché fossero totalmente a sua disposizione. Il 18 ottobre invece, dinanzi ai giudici, si presenteranno i 24 del primo filone, tra cui altissimi ex ufficiali delle forze dell'ordine e dei servizi segreti. E restiamo a Palermo, dove è avvenuto il sequestro di questi importanti documenti dell'inchiesta Montante, per parlare di un altro caso che scuote i palazzi della regione. Riscossione Sicilia, che nell'isola riscuote le imposte per il fisco, ha rinunciato ai pignoramenti in corso nei confronti di un contribuente particolare, Gaetano Armao, che è anche l'assessore regionale all'economia, di cui riscossione dipende. E non perché l'illustre cittadino abbia pagato i 392 mila euro pretesi dal fisco. Sentiamo. Nell'Italia e nella Sicilia del conflitto di interessi, la notizia potrebbe anche non suscitare particolare indignazione, ma questo aggraverebbe la situazione. La notizia appunto. Riscossione Sicilia, agenzia partecipata dalla regione e posta sotto il controllo e la giurisdizione dell'assessorato all'economia, ha deciso di rinunciare alle azioni esecutive in corso contro l'assessore regionale all'economia, Gaetano Armao, che è anche vicepresidente della regione. Il cittadino Armao è debitore verso il fisco per 392 mila euro, per 22 cartelle non pagate. Alcune dice di averle contestate, per altre ha chiesto la rottamazione, ma ciò non lo esime dalle pretese del fisco per le cartelle notificate. Ora si scopre che Riscossione Sicilia ha rinunciato a chiedere soldi ad Armao. Perché? Si chiede Giancarlo Cancelleri del Movimento 5 Stelle che ha annunciato un accesso agli atti. Certo, potremmo scoprire che Riscossione Sicilia non motivi la sua rinuncia con il temuto riguardo nei confronti del proprio potente controllore, ma per esempio con l'interesse proprio di Riscossione Sicilia. Che nei confronti del contribuente evasore Armao non avrebbe proprio niente da riscuotere, perché tutti i suoi ricchi stipendi e indennità sono già stati pignorati da un creditore d'eccezione, la propria compagna, Giussi Bartolozzi, giudice in aspettativa del Tribunale fallimentare di Palermo è deputata alla Camera. È felicemente la sua compagna di vita, ma è riuscita a pignorargli ogni euro del ricco stipendio. E sì, perché non si è limitata ad un quinto e lui, Gaetano Armao, non si è opposto. La Corte d'Appello di Messina ha assolto perché il fatto non sussiste il direttore e editore della settimanale 109, Enzo Basso, dall'accusa di appropriazione in debita. Basso ha diretto questa rivista di informazione libera per anni e dalla sua penna sono uscite delle grandi inchieste. Sentiamo. Assolto perché il fatto non sussiste. Il verdetto della Corte d'Appello di Messina, presieduta da Alfredo Sicuro, è arrivato ieri per Enzo Basso, editore dello storico settimanale regionale 109, rivista che negli anni passati è stata una voce libera nel panorama giornalistico siciliano. Tante le inchieste che sono state affrontate da Basso e alcune anche scomode e forse anche per questo si è tentato di mettere un bavaio all'informazione libera. L'accusa era di appropriazione in debita. Basso era accusato nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società editoriale 109SRL di essersi appropriato indebitamente di alcune migliaia di euro. Ma i magistrati non hanno ravvisato nessun comportamento fraudolento. Una successiva inchiesta che lo scorso novembre ha portato all'arresto del giornalista con l'accusa di bancarotta fraudolenta, falsi in bilancio e frode fiscale partiva proprio da questa prima indagine. L'arresto di Enzo Basso ha portato al sequestro preventivo del giornale che per 25 anni ha dettato le regole del giornalismo siciliano. Sequestro che con la mancata nomina di un direttore responsabile, ruolo che ricopriva Enzo Basso, ha decretato la definitiva chiusura della redazione e la conseguente sospensione delle pubblicazioni. Ci spostiamo adesso a Gela dove si è verificato un episodio di bullismo nei confronti di un quindicenne preso a sputi e calci da due dei suoi compagni di classe. Uno si è pentito e ha chiesto scusa mentre l'altro andrà a processo con l'accusa di lesioni e stalking. Vediamo. Ennesimo caso di bullismo si è verificato a Gela nei confronti di un quindicenne. La vittima ha dichiarato di essere stato preso di mira da due suoi compagni di classe, autori di aggressioni e vessazioni quotidiane. Stando alle accuse, il ragazzo avrebbe dovuto sopportare sputi e pietre lanciategli addosso tanto da voler rimanere in classe durante l'orario di ricreazione. In un'occasione avrebbero cercato addirittura di soffocarlo. Il bullismo rappresenta oggi un vero e proprio malessere sociale apporta conseguenze notevoli e arrega danni irreparabili alle vittime. Sono moltissimi gli episodi di bullismo che si denunciano ogni giorno soprattutto all'interno delle scuole, nonostante i tentativi di sensibilizzazione da parte delle istituzioni sociali. Uno dei due bulli ha ammesso i fatti scusandosi per quanto accaduto, l'altro invece andrà a processo. Lesioni e stalking sono le accuse mosse dai PM della procura minorile di Caltanissetta nei confronti dei due responsabili. E adesso c'è la pubblicità. A tra poco. la pubblicità Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.